ciao e benvenuto all'autoplay di oggi vi farò vedere come suonare questo riff in slap che è tratto dal mio metodo easy slap allora partiamo con un la bemolle in corda di mi al tasto 4 con il pollice lo colpiamo e poi ci suoniamo la sua ottava la bemolle tasto 6 corda di re dopo andiamo sulla corda di sol sempre al tasto 4 andiamo a suonare una nota si che a livello armonico sarebbe più giusto chiamare do bemolle perché se sono in la bemolle minore come in questo caso la sua terza minore sarebbe giusto chiamarla do bemolle però per facilità la chiameremo si così sapete dove andare a prendere il ritmo è questo quindi sul la bemolle basso diamo due colpi uno lungo e uno corto e poi strappiamo la bemolle alto e torniamo sulla bemolle basso queste note si strappate devono essere in levare di sedicesimo tutte e due strappate che si può fare una con l'indice una col medio oppure anche tutte e due con con l'indice come come preferite ho programmato la batteria in modo che via un colpo sulle varie di sedicesimo per poter confrontare se siamo giusti sul sul tempo deve essere presa appunto con questo sedicesimo spostato andando avanti risolviamo con questa strisciata sul mi bemolle quinto grado di la bemolle minore strappato quindi siamo al tasto 8 della corda di sol e poi ristrappiamo un sempre nota si oppure chiamata armonicamente in maniera più giusta do bemolle le strappiamo tutte e due questo si lo troviamo al tasto 9 della corda di re benissimo grazie per aver visto questo video spero che metterai un mi piace lo condividerai con i tuoi amici bassisti e ci vediamo al prossimo auto play ciao buona musica carlo ciao ciao ciao